Ciao a tutti ragazzi, siamo Rappi e Molli, e bentornati, e bentornati, bene siamo di nuovo su DOP e dove dobbiamo disegnare, sì, avete già lasciato un mi piace, vi siete già iscritti, molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, ma com'è mai è facile, basta qui sotto dovete iscrivervi, allora siamo a livello 133, mori un po' passerello oggi, siamo a livello 133 e qui è un ascio, e non sappiamo più cosa fare, sì, io lo so, ma ci avevi pensato prima, ammetti, no, è un ascio, tocca a me, no ne facciamo due a testa, ok, allora 130, ok tieni, no, no hai detto che l'ho facendo, allora 16 più 4, ma so io fa 0, no, fammi fare, 16 più 4 meno 20, dovrebbe fare, allora qui forse va, ah l'uguale, l'uguale, ho fatto una riga a caso, no, no, lo sapevo, non ho tirato una riga a caso, sì, sì, ci crediamo, ci crediamo, vai, tocca a me, oh, cosa devo fare, ma che è, i baffi, la barba, infatti, eh, facciamo così, forse i baffi li devi togliere, i baffi li devo togliere, ma questo è una donna, un uomo, eh, secondo me è un uomo, c'hai baffi, lassù, ma, ai ai ai, la rami in difficoltà, collana, salve signora, signora, signora baffuta, gli occhiali, ma perché gli occhiali, una collana, io direi, i capelli da uomo, io direi di fare, delle cose a caso, eh, ma, vedi che non, non funziona, così, guarda, c'è molto strano, questo gioco, allora qua, qua sopra dalle rose, eh, no, 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 estamos in difficoltà, ragazzi, vi prego, dateci un indizio, noi non sappiamo come fare, within indizio ahhh dai Rebi non aveva le sopracciglia il monociglio andiamo a toccare me pupazzo di neve gli manca il pezzo sotto gli mancheranno le zampette no la palla sotto ma quanto ne sa bolli ma io il pupazzo di neve lo faccio solo con la testa e il corpo no no in verità il pupazzo di neve è vero è così davvero allora faccio io gelato si però lui si becca sempre quelli più facili non vale non vale non vale calma vabbè dai lo so ne manca una una siiii cos'è cos'è tocca a me è una lametta una lametta sembra una lametta da barba un telefono ma dai una scarpa era la sola delle scarpe lo so ombrellone ombrello lo so lo so si parte dalla fine non è la fine quella è facile che partiamo dall'inizio siiii questo è mollettino vai un'ananas 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 è vera guarda non è disegnata vai livello 140 vabbè dai facile mmm è contento questo pesciolino allora ombrellone ma è facile dai siamo a livello 144 siamo fortissimi siiii allora vai 145 una cannuccia ok facciamo chi fa prima vai una mongolfiera la do io il camattino eh brava uno pari l'altalena dai non l'avevo visto pronta vai la lampada ma sei troppo veloce la notte la notte ahahahah ahahahah ho trovato un'idea per vincere ho trovato un'idea per vincere vai vai ahahahah ma così no la casa la casa la casa la casa dai fai te dai imono ma stai facendo te ah ehm cos'è ma cos'è un brazzo ma cos'è cos'è ah vabbè dai ma è un guanto da cucina vai rebecchina Einstein yeah ma cosa ha fatto infatti sì Einstein l'hanno messo dappertutto Titanic il ghiaccia l'iceberg andiamo via stanno andando via vai troppo veloce siiii occhiali sto volando la lana piano piano luna piena luna piena stiamo andando velocissimo ragazzi sangue freddo ahah 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 questo è vampiro molly è vampiro molly ti fa sì se vampiro molly diventa tutto blu? si potrebbe nooo ahah si 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 allora vai di nuovo 3 2 1 l'unicorno nooo ok 1 1 0 la torre di pisa stavo per dire la torre di pisa la candela la 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 oh c'è vampiro molly è vampiro e lei i bastoni si chiama albero l'albero della nave il buco il buco il buco la porta la pallina 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 niente non funziona che non va oh oh la pallina la porta la porta vedi? è la porta vai 3 2 1 via un dente che schifo è il dente staccato è la doccia la doccia l'ostacolo bravo cavallino vai rabbi l'elica l'elica no l'abbiamo già fatta questa è il pezzo sotto sopra perchè appena lo prendo io non funziona non funziona non funziona dai rabbi dai che ce la fai non funziona non funziona non funziona non funziona qua il pezzo l'elica qua ci vuole un'altro coso qua dai oh non va più non va più allora dai eh ma se fai gli scarabocchi non ti prende eh non va eh non va dobbiamo fare cos'è che ci va qua? eh ma era la coda della nave ah no la coda della nave questo è una nave l'elicottero l'elicottero allora facciamo così ce lo diranno loro qua sotto nei commentini cosa dobbiamo fare qua? non capiamo eh c'è tutto c'è mancherebbe solo questo pezzo qua che però non va ditecelo voi esatto scriveteci qua sotto nei commentini cosa dobbiamo fare e mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like ed iscrivetevi se non siete iscritti da noi è tutto ci vediamo domani ciao 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 ciao